Ultima dei play-off contro prima dei play-out, la sfida al Galileo Speziale tra Acqua e Sapone e Torrese ha un'importanza notevole. Padroni di casa che testano Marrone come difensore centrale, ospiti che per interrompere il digiuno di vittorie esterne si affidano al bomber Maio. Fischia Serrani dell'Aquila, 45 secondi e la squadra di Del Gallo è già pericolosa. Da Ariani verso Evangelista che si inserisce bene, ma spreca di testa. Non è sicuramente il suo colpo migliore, il classe 99 si riscatta alla sua maniera al dodicesimo, Marrone Pennella il numero 7 con un pallonetto, beffa Bruno e porta in vantaggio l'Acqua e Sapone. Col passare dei minuti la Torrese alza il baricentro e alla prima vera occasione impatta la sfida. Maio porta a spasso mezza difesa avversaria, palla dietro per Stefano Kruger che spiazza Palene in un rigore in movimento, 1-1 e sfida nella sfida tra i fuori quota delle due squadre. Alla mezz'ora Ariani anticipa Casimirri e spara al mancino che termina fuori di un soffio. La partita è accesa, Palena con i piedi evita il raddoppio ospite, ma la vera prodezza a fine primo tempo la fa il suo collega Bruno che smanaccia sul palo il diagonale di Luca Marrone. Prova ad entrare in partita anche Chiacchiarelli, ma la mira non è precisa. Primo tempo su ritmi indiavolati e ripresa che nasce sotto le stesse aspettative. Ancora Ariani perpetito in anticipo su tutti, ma la conclusione centrale. Dall'altra parte errore clamoroso di Di Biase che regala il pallone a Chiacchiarelli. Non è d'accordo Palena che mette in calcio d'angolo con una parata spettacolare. Risponde l'acqua e sapone con le discese di Piedimonte, ma il destro è da cancellare. E così, alla mezz'ora, la Torrese piazza il colpo del vantaggio. Scambio verticale tra Puglia e Maio. È stoccata che varrà tre punti pesantissimi grazie al sesto centro in campionato per l'attaccante. Gli spazi per la truppa di Cristofari diventano invitanti. Maio parte da solo e rifinisce al centro. Il suo quasi omonimo, Maio Rani, tiene a galla l'acqua e sapone che ad una manciata di minuti dalla fine ha il pallone del pareggio. Petito sportella e serve Trento. Bruno gli sbara la strada per la parata che vale tantissimo. Prima vittoria esterna stagionale per la Torrese che balza al terzo posto in classifica. L'acqua e sapone manda invece in archivio un'altra sconfitta per un gennaio 2019. Davvero da dimenticare. Mister Cristofari, sembrava una trasferta come le altre di questa stagione e poi si è messa benissimo, soprattutto nel secondo tempo. Una vittoria fondamentale che vi porta al terzo posto. Sì, sapevamo che veniamo ad affrontare una squadra affamata, una squadra che voleva riscattare gli ultimi due passi falsi. Loro in casa sappiamo che fanno del proprio impianto la loro forza durante tutta la stagione. Siamo andati sotto, come purtroppo ci capita spesso in trasferta, ma oggi abbiamo avuto la forza di riprenderla e di andare in vantaggio. Abbiamo preso tre punti fondamentali, merito ai ragazzi, che stanno seguendo quelle poche indicazioni che in questi pochi giorni sono riusciti a dare. Sono molto soddisfatto di loro, soprattutto di chi è subentrato. Oggi i gambi hanno portato a casa tre punti fondamentali. Mister Del Gallo, terza sconfitta consecutiva in questo gennaio nero, fermati oggi da quel clamoroso intervento di Bruno a due minuti dalla fine. Sì, i ragazzi veramente sono stati straordinari, hanno fatto una partita immensa. Veramente mi dispiace per loro perché non meritavano sicuramente questa sconfitta. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, li abbiamo contenuti bene, abbiamo avuto delle grandissime occasioni anche per raddoppiare. Nel secondo tempo li abbiamo sempre contenuti, forse nell'unica occasione che abbiamo lasciato a loro, a parte un'altra parata di Alceo. Abbiamo avuto delle occasioni, soprattutto all'ultimo con Nico Trento, per pareggiarla. È un periodo ovviamente che ci va storto, però se la squadra gioca in questa maniera sono molto fiducioso. Grazie.